Sì, poi il fatto che sembra quasi una battuta, che non esiste più la mezza stagione, che le stagioni di una volta... purtroppo in agricoltura questa è la dura realtà, un conto è noi in città che ci dà fastidio il troppo caldo, il troppo freddo, la pioggia o chissà che cosa. Io mi occupo anche insieme al senatore Candiani, mi sto occupando di agricoltura anche in Lombardia, qui abbiamo visto il Lazio, ma purtroppo ormai sta diventando un problema di tutta Italia. Se vi ricordate ad aprile c'erano state le gelate, ad aprile quando le piante da frutta cominciavano ad essere in fiore, quando cominciavano a esserci fiori per le api e quindi il problema del miele. Pensate alle viti nella basso collinare, sono arrivate due notti di gelate che avevano messo a zero praticamente le produzioni di uva e di miele, ahimè, di miele, ma soprattutto di frutta. A questo si aggiungono la situazione di... I danni di questi giorni. I danni di questi giorni che sono ingenti, perché se pensate che nel momento in cui non piove per così tanti mesi e la prima pioggia che arriva non è la pioggerellina, ma sono grandinate o piogge importanti. Quelle che chiamano le bombe d'acqua. Le bombe d'acqua. Il problema è che quel poco che rimane di agricoltura... E quindi soluzione? Un aiutino dello Stato? Perché Battista è sempre quella, no? La soluzione. La soluzione in questo momento non può che essere quella se vuoi tenere in piedi le aziende agricole. Stiamo dando una soluzione per tenere in piedi le banche spendendo miliardi di euro. Abbiamo trovato la soluzione per Alitalia spendendo miliardi di euro. Non vedo il perché non si può trovare una soluzione per l'agricoltura. Aspetti che le faccio un po'.